I wanna wake up in 1985 And kiss your girl in the backseat of my dead scar Never nobody's gone again And nobody calls me a checkin Nobody calls me a checkin Buongiorno a tutti, sono NewTabys96 ed eccoci qui con l'apertura della collezione Rai2 di Alola senza GX, solo Rai2 di Alola Rai2 di Alola normale, visto che è il simbolo del canale Praticamente Ok allora iniziamo Accoltelliamolo subito con un coltellaccio da cucina Esatto Collezione Rai2 di Alola Attenti a col surf, Rai2 di Alola scende in campo Preparati a cavalcare fulmine 7 con la collezione Rai2 di Alola del GCC Pokémon Rai2 di Alola è un Pokémon sempre allegro e rilassato ma nasconde attacchi rapidissimi In questa collezione troverai Rai2 di Alola sotto forma di una stupenda carta gigante Stupenda carta gigante E di una carta Stupenda E di una carta proporzionale pronta ad essere giocata Con il rischiaggio le onde ti aspettano Aspettano solo te La collezione contiene questa roba che adesso vi facciamo vedere La scatola in sé è carina Quindi la spazza dura Sì però Sì è la carta gigante del Rai2 di Alola che è più facile da farvi vedere L'unica cosa utile delle carte gigante è questa Sviluppa questa forma solo nella regione di Alola Secondo gli studiosi questa differenzazione è dovuta alla diversa alimentazione Le malassarda Guarda che effetto fa Le malassarda Sviluppano i poteri psichici Quando un grau è diventato una specie di Psycho Mantis Esatto Apposto Rai2 di Alola Rai2 di Alola Codice della collezione Codice per voi Per il primo che riesce a beccarselo Che non ha la minima idea di cosa Slocchi Ma non ci penso Ma qualcuno di voi gli usa davvero sti codici Perché noi li facciamo sempre vedere Però Butto Sempre Poi noi li buttiamo Allora abbiamo Un altro furie volanti E poi visto che anche questa è una confezione che doveva uscire prima di invasione scarlatta Abbiamo un bustino di guardiani nascenti e ombre infuocate Perché l'invasione scarlatta teoricamente non doveva ancora essere in giro Però E invece Sto uscendo tutta roba in ritardo Vabbè Iniziamo da Però almeno sono stampate dritte Sì Sembra che abbiamo migliorato un po' la qualità delle stamp Anche tutte le carte erano L'ultimo set Erano molto più dritte Sì Erano abbastanza imbarazzanti quelle Oh codice Meno male Codicione S7MQ 7LQ Vabbè Il codice era ancora questo 3 Questo potrebbe essere una X Vediamo Quindi subito Abbrucio Gliscore Legame mentale con Gallade Electron Execute Natu Sì è una X Natu Fletchling Brample Tylow Dragonite Traverse Galade Galade X Galade X Desire Bambam 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 Buah Troppo da fondo per far aprire Ultimamente ci va abbastanza bene Qualunque cacata apriamo Una post Poi un'altra carta Ok Prima i guardiani Sì Ok Guardiani guardinghi Ma cosa guardano i guardiani guardinghi? Ma la vera domanda è Chi guardia i guardiani Chi guardia con chi Chi sorveglia i guardiani? Beh codice No 1, 2, 3, 4 3, 4 C'è che qua non c'è una mazza Darkness Ben da scelta Spazza campo Sururo Wishiwashi Nospas Wimpob Gumi Wailmer Un'altra ben da scelta E gli Olisk E gli Olisk Sì La reverse Ok L'ultimo pacchetto Un video un po' corto Eh vabbè c'è un tre bustine Però Visto che Raiko appunto È il simbolo del canale E i 20 minuti delle team Si è meritato un video tutto suo Oggi pure è la messa a fuoco perfetta Incredibile No è folletto Lunatone Raidon Alixia Charmander Meryl Unsage Espur Pikachu Raticate Dialoma E Braxish Un posto Beh Direi che comunque Un'ex a caso È uscita lo stesso Quindi non ci si può lamentare Esattamente Un'ex non voluta Però l'ex non voluta Sono sempre le migliori E poi la È il raggio di gigante È il raggio piccolino Che finiranno Alla fine di un quaderno Probabilmente Sarà una di quelle cose Che completano i set Esatto Che colleziono più le promo Che quelle normali Sì che le carte normali Ma anche le carte normali Sono semplici da trovare Le promo Ci devi stare più dietro Sono un po' più promo Esatto Sono un po' più da pazzi E andare a cercarsi le promo Bene Con questo è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao